Contropiede della Virtus, Mata, 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 Vete, 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 il nuovo gol realizzato dalla Virtus Castelfrentano ad opera del nostro capitano numero 11, Teddy Mata, che ha realizzato la sua quinta rete in questa gara. Adesso c'è un cambio, entra Alessio Ceroli con il numero 15, ed esce Guido, il nostro Guido, Guido Colaizzi, il nostro numero 4, è uscito il 4, lo fatti vedere dall'arbitro. Scusa, eh, comincia a giocare anche da centrale.